Saranno celebrati martedì, quasi certamente nella chiesa svedese di Piazza Farnese a Roma, i funerali di Anita Egberg. L'attrice, morta domenica nella clinica fuori Roma in cui era ricoverata, aveva 83 anni. Simbolo, entrato nella storia del cinema grazie al ruolo nella dolce vita accanto a Mastroiani, Egberg sarà cremata. Le ceneri riposeranno a Malmo.